Personalmente Corrado mi ha dato una grande mano sotto il punto di vista proprio pratico. Io sono una persona che pensa magari forse un po' troppo rispetto a lui su determinate cose, sulla musica in generale, su quando lavoriamo. Sicuramente Corrado è stato un po' il mio fratello maggiore su questa cosa perché è stato quello che mi ha spronato e mi ha anche insegnato che a volte avere un po' di istintività in più può giovare al processo creativo e artistico di un disco. Invece a me al contrario, da lui ho imparato un po' più di ragionamento. Ci siamo spesso fermati magari su una rima, su una melodia, perché lui diceva ma vedi che secondo me potrebbe, cioè quindi ci siamo completati perché in realtà la sua insicurezza a volte era giusta e andava seguita, invece a volte magari la mia istintività era quello che ci voleva. Quindi è stato veramente un gioco di squadra che ha funzionato proprio per queste differenze che proprio in realtà hanno aiutato, ci hanno arricchito. Il punto principale che ci unisce è una stima reciproca di artistica che personale. Io e Corrado siamo molto simili su tante cose. Forse è la persona che nella mia vita più mi compiglia caratterialmente. Sui lati forse proprio più importanti del mio carattere siamo veramente simili. Quindi in primis è stato il motore di tutto, il motivo che dovevamo farlo. Poi comunque negli anni, dopo tutte le nostre collaborazioni, anche i fan hanno cominciato a chiedere. E' nato un po' questa fairy tale sulle nostre collaborazioni. Ogni volta che lui non c'era in qualcosa di mio, io non c'ero in qualcosa di suo, c'era un po' di buzz. Sì, esatto. C'era un po' di cassino. Abbiamo capito che ai fan piacevamo insieme e noi ci trovavamo super bene, quindi abbiamo detto, ah, perché no. Poi secondo me anche un joint album che appunto potevamo fare solo noi due, perché credo che in Italia, se posso, cioè siamo due che comunque fanno un certo tipo di rap, non ce ne sono tanti come noi. Quindi due personalità così, due artisti così che si uniscono, possono per forza, cioè non possono fare altro che generare un disco con un'impronta ben definita e insomma originale probabilmente, anche se vediamo i joint album in genere. Allora, la scelta di RAF diciamo che è nata, è nata principalmente, è nata la voglia di riprendere un qualcosa degli anni 90. Noi, io e Corrado siamo praticamente coetani, quindi qualcosa che ci riportasse un po' alla nostra adolescenza, quindi ai nostri ricordi, alle nostre prime esperienze e quindi una sera durante una delle session che abbiamo fatto in Toscana cominciamo a parlare, ma che dici se facciamo una roba del genere, se riprendiamo qualcosa di quando eravamo più piccoli e quindi abbiamo sparato un po', sai, io dicevo la mia, lui diceva la sua, perché questo pezzo, te lo ricordi, perché questo? Ne sono usciti vari, poi alla fine ci siamo illuminati e ho detto, ma perché non facciamo RAF la più bella? Io ci ero legato per dei ricordi miei, la mia prima fidanzatina. Esatto, forse era stato proprio il primo pezzo che entrambi avevamo dedicato, sai, quando sei proprio alle medie. Sì, 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 sì. Quindi ne avevamo parlato. Poi anche a livello di sound in realtà, ce la immaginavamo tanto a giornata, quasi non vedevamo l'ora di provare a renderla nostra, perché poi effettivamente, come hai detto, ci sta benissimo in un disco nostro, perché poi quel sound lì è effettivamente poi quello che noi facciamo, ovviamente con gli aggiornamenti del caso, perché siamo nel 2021. Vito normale, sì, è un pezzo secondo me importante, perché comunque descrive appieno il nostro rapporto conflittuale con la voglia di essere artisti, ma comunque la necessità di rimanere quel chiedi per terra, perché fondamentalmente parliamo e scriviamo della vita normale, di quello che ci succede. Ed è anche, secondo me, il punto di contatto che ci avvicina tantissimo ai nostri fan e alla nostra fanbase, che poi si dimostra essere sempre molto attenta e, come dire, che ha sempre voglia di scoprire, quasi ci conosce, no? Perché noi ci apriamo tanto nelle canzoni e questa cosa, secondo me, ci avvicina tanto. Quel pezzo parla proprio di questo e, secondo me, può essere anche visto sotto altri punti di vista. Ecco, magari l'essere artista o il voler fare qualcosa di diverso nella vita, dove per diverso si intende magari un lavoro che non sia canonico. e quindi però la voglia e la necessità di rimanere attaccati al suolo per stare con la testa sulle spalle. Ma forse è proprio la più bella, quello che... Non è che ci ha messo in difficoltà, però è quello che abbiamo finito per ultimo. Perché all'inizio avevamo solo la prima strofa e il ritornello. Ci abbiamo messo un po' a trovare il gimmick per la seconda strofa, a trovare la chiave giusta della seconda strofa. Infatti è stato forse l'ultimo pezzo che abbiamo fatto, forse ad agosto. Avevamo bisogno di qualcosa in più perché la prima strofa è molto melodica. Avevamo bisogno di qualcosa che facesse muovere un po' di più, quindi ci abbiamo pensato a lungo. E poi è uscito il Mi piace più delle Nike. Esatto, sì. Quindi forse quello è stato il pezzo che è un po' più rischioso. Sì, diciamo, non ci ha messo l'uno contro l'altro. Non ci ha messo l'uno contro l'altro. Però entrambi eravamo un attimo, come dire... Sì, proprio lì, sì. A riguardo, sì. Mentre forse il pezzo è andato più liscio. Tanti sono andati molto lisci, devo dire la verità. Sì. Io forse ti direi zombie perché ricordo che è stato proprio il primo pezzo appena arrivato in questa casa in Toscana, non abbiamo... Sì. Abbiamo lasciato le valigie, abbiamo aperto il computer, abbiamo ascoltato dei brani, insomma, dei beat. Abbiamo scelto questo qui e dopo due ore l'avevamo scritto e ci siamo meravigliati, ci siamo guardati e abbiamo detto... Sì, sì, sì. Farci rendere conto che in realtà questa cosa avrebbe funzionato. Sì. Il lasso di tempo che c'è stato e quindi i miei due dischi, perché poi comunque io ho realizzato solo due dischi ufficiali prima di questo, mi hanno sicuramente dato una consapevolezza in più, quindi magari se l'avessimo fatto tre anni fa, quindi nel 2017-2018, prima che io pubblicassi Aquarium, non lo so, sarebbe stato un po' più difficile. Sicuramente sì, l'esperienza di entrambi è maturata, quindi abbiamo portato un po' di know-how in più, però diciamo che l'approccio credo che l'avremmo avuto nella stessa... questa maniera, ecco.